È in calendario per mercoledì 24 aprile la giornata mondiale contro la meningite, una grave infiammazione delle membrane che avvolgono il sistema nervoso centrale causata da batteri, virus, funghi o altri agenti patogeni. Le forme batteriche sono le più gravi, si tratta di meningiti da meningococchi, da pneumococchi e da hemophilus influenzae di tipo B. Nella provincia di Arezzo due casi che si sono registrati nelle ultime settimane entrambi in Valdarno. Lo scorso 16 aprile infatti una 21enne di Pian di Sco era stata stroncata da una forma fulminante di meningite da meningococco B. Solamente due giorni dopo un 57enne era stato ricoverato nel reperto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo per una forma di sepsi da meningococco C, fortunatamente in questo caso senza riportare gravi conseguenze. La meningite si manifesta all'improvviso con sintomi come il rigidimento della parte posteriore del collo, febbre alta, mal di testa, vomito, nausea, alterazione del livello di coscienza, convulsioni ed infine rascutaneo di tipo emorragico. Le forme batteriche, quelle più gravi, sono comunque prevenibili con vaccinazioni. La regione toscana ha un calendario vaccinale che prevede assolutamente la vaccinazione dei bambini piccoli, degli adolescenti e dei giovani adulti. Per quanto riguarda il meningococco B, la vaccinazione è raccomandata ed è gratuita per i bambini, per i neonati. Per il meningococco C, questa vaccinazione, oltre che nei neonati, è raccomandata nei bambini e negli adolescenti. E' ovvio, esistono anche delle categorie cosiddette a rischio, per esempio gli splenettomizzati o chi soffre di patologie croniche, diciamo tipo insufficienza renale, broncopatie, forme di malattie del sangue, eccetera, dove c'è un'indicazione assoluta a fare la vaccinazione non solo per il meningococco, ma anche per altri patogeni, quali lo pneumococco, l'influenza, l'hemofilus e così via.